Siamo qui con Jarno Trulli che si trasformerà da pilota a giudice tra poco. Beh, direi che da una parte non ho sventura perché non l'avevo mai fatto a livello ufficiale e soprattutto con la televisione presente. Però devo dire che in passato da papà e da coach mi sono già cimentato in queste cose visto che ho aiutato Enzo nella sua breve parte iniziale di carriera. Questo sicuramente è un progetto ambizioso, come detto più sport nella persona di Rosario Campagna credono molto in questa iniziativa che devo dire è unica nel suo genere perché purtroppo nel mondo del motosport oltre ad essere molto talentoso deve avere comunque una buona dose di pagine. Nel nostro caso particolare noi aiutiamo o andiamo a scovare qualche ragazzo interessante che magari con davvero pochissimo riuscirà a mettersi in luce e riusciremo a portarlo poi a guidare una vera Formula 3 in una gara che si svolgerà a Monza. Cosa accadrà dopo non lo sappiamo, però intanto iniziamo da una buona base, da un bel progetto e passeremo a vedere. Ricordiamo che però è un'iniziativa aperta a tutti. Quindi certo i giovani sono più interessati perché potrebbero, chi lo sa, fare magari una carriera però magari anche persone normali che amano guidare vogliono conoscere qualcosa in più dalla tua esperienza, guidare un nuovo posto, insomma cimentarsi in varie prove può essere utile anche per un discorso stradale o comunque solamente divertimento. Assolutamente perché comunque tutte queste prove prevedono un percorso importante che si va già dal simulatore fino a passare per il go-kart, prove di guida, fino a poi ad arrivare a guidare una macchina a mannavera a uno posto su un tracciato importante come può essere quello di Monza. Quindi le varie tappe aiuteranno tutti coloro, riusciranno ad arrivare più in là possibile. Chiaro che poi ci sarà un solo vincitore e sarà colui il quale davvero approfitterà di una grande chance. Però ecco, per iniziare non è solo per giovani, anzi in questo caso abbiamo scelto non proprio più giovani perché abbiamo considerato come prima fase o come primo anno di scegliere i maggiorenni. Probabilmente in futuro scenderemo ancora più in giù perché oggi purtroppo il motosport, ma come anche un po' tutti gli altri sport li vogliono andare a pescare veramente da giovani, a talvolta anche troppo giovani. Ecco esatto, partendo da quel presupposto, la tua esperienza. Oggi abbiamo Antonelli, lo conosciamo, dopo ne parleremo, 18enne, Vestappen quando cominciavano ancora minorenne. Ecco tu sei arrivato alla Formula 1, non tantissimi anni fa, a un'età comunque non ti dico che oggi sei considerato vecchio però comunque già piuttosto avanzata rispetto agli standard attuali. Beh sì, io ho debutato in Formula 1 all'età di 22 anni, all'epoca era giovanissimo, per quell'epoca. Oggi probabilmente non sarei vecchio ma non sarei neanche giovanissimo perché oggi i giovanissimi vengono considerati 17enne, 18enne, massimo fino a 20 anni. Sono cambiate un po' le priorità, è cambiato un po' il motosport in generale, tutta la scaletta, sono cambiati moltissimo anche i budget, e quello influisce tanto. E insomma, secondo me li vanno a pescare anche un po' troppo presto. Questo non significa che non sono capaci, è che però quando si va così tanto indietro come stanno facendo adesso, cioè così giovani, talvolta si prendono anche tanti abbagli. Oggi ci sono le Academy, pensiamo alla Terraria, pensiamo alla Mercedes, pensiamo alla Red Bull, ai tuoi tempi non c'erano, quindi dovevi arrivare a quei risultati, poi hai vinto Macao, quella era una gara per l'epoca di una certa importanza, e poi hai avuto un minato che hai scommesso su di te. Beh, la mia carriera è stata insomma molto strana perché in effetti io sono venuto dal nulla, ho fatto tanti anni di go-kart, non potendo poi correre nelle formule, poi c'è stato con una persona, Gianni Bianchi, inizio allo Svizzero, che mi ha dato un'opportunità, ecco, un po' come quella che stiamo dando noi con Road to Race, un'opportunità di correre con il Formula 3 e io in un anno e mezzo sono passato dal go-kart alla Formula 1, quindi è qualcosa che tutt'oggi è ancora impossibile da fare, quindi non mi spaventa vedere magari dei giovani passare così rapidamente dalle formule alle macchine, forse mi spaventa di più l'età, perché? Perché con l'età si migliora, si peggiora, ma soprattutto si matura tanto, tanti giovani magari sono troppo giovani all'età del go-kart, mentre poi maturano un po' più tardi, e questo è quello che probabilmente oggi è cambiato e bisogna essere troppo maturi, troppo presto. Oggi non ci sono più test, non ci sono da molto tempo in Formula 1, c'è questa galleria del vento, ma spesso le correlazioni le vediamo anche in pista, ecco, ti chiedo, probabilmente non sarà possibile, però se fosse per te reintrodurresti il concetto di test, anche per magari avvicinare la Formula 1 alle appassionate, io sono di Monza, quindi mi ricordo quante volte andavo all'autonomo a vedere i test, cosa che oggi non è più possibile, e quindi magari cercare di riavvicinarli, togliendo forse un po' tutto questo lavoro che si fa nelle varie gallerie del vento, che comunque è dispendioso, immagino. Allora, io credo che abbiano fatto comunque un po' di calcoli, e credo che andare in pista costi comunque molto di più che lavorare in galleria del vento, questo però comporta delle grosse problematiche, uno a livello di piloti che non si provano più, non girano più, e quindi anche per i giovani è più difficile, tant'è vero che poi i giovani oggi investono una marea di soldi per fare tutta una serie di test, chilometri, ma davvero tantissimi, nelle categorie minori, cosa che prima non esisteva. Seconda cosa è che togliendo i test, togli, o meglio, sottrae l'importanza di un pilota nell'impatto che può avere nello strutturato della macchina, quindi ancora di più oggi la bontà della macchina, del team, la struttura vale ancora di più di quanto potesse valere magari i tempi miei, dove io quasi ogni settimana se andavo in pista, si portavano novità, a volte capitava che le novità venissero bocciate, perché magari non c'era correlazione tra ciò che diceva la galleria del vento, ciò che invece diceva la pista, cosa che invece oggi si boccia ma in pista, oggi è cambiato perché in effetti, allora, si lavora sempre di più tra la correlazione tra pista e galleria del vento, pista tempo limitato, quindi significa durante i non premi, e quando ci si accorge di aver sbagliato, l'abbiamo visto anche di recente, si deve tornare indietro, ma ahimè il danno l'hai già fatto, e quindi sono tutta una serie di circostanze per cui, sì, da una parte abbiamo tante più gare rispetto ai miei tempi, dall'altra hai meno prove, quindi si incappa anche in problematiche proprio legate allo sviluppo, che ahimè le paghi direttamente durante la gara, perché non è più il tempo di poter provare, verificare, valutare e approvare ciò che hai fatto in galleria del vento, questo ripeto, oggi è cambiata la formula 1, quindi tornare indietro non so quanto sia possibile, quanto i team siano in grado di farlo, perché è cambiata anche la struttura del team, oggi fanno tante gare, circa 24 gare, i tempi miei c'erano dai 16, massimo 18 gare, però c'erano anche i testing, cioè c'erano i team che, i ragazzi, i meccanici, gli ingegneri che si occupavano solo della parte sviluppo e quindi dei test, oggi questo non c'è, però dall'altra parte vedo che i meccanici fanno un grandissimo lavoro, a volte anche un po' tirato, nell'affrontare delle gare che sono magari 2, 3, 4 gare una dietro l'altra, questo è molto duro per tutta l'organizzazione del team, ma soprattutto anche per coloro i quali lavorano tutte le settimane in uno sport dove credetemi non c'è un orario come si va in ufficio, a volte si lavora anche 14-15 ore al giorno e quindi farlo ripetutamente per 3-4 settimane non è facile e in più comporta anche dei problemi, a mio avviso, di sicurezza. Quindi ti chiedo, la domanda mi viene spontanea, quasi da boomer, lo vediamo, ma era meglio quel tipo di Formula 1, era meglio questo o semplicemente sono cambiati i tempi e quindi bisogna stare al basso? Sono cambiati i tempi, sono diversi, quindi non voglio stare a dire era meglio prima o meglio adesso, oggi le macchine insomma sono sicuramente più sicure, si sono fatti passi avanti su tante cose, ahimè altre cose invece veniamo meno, uno dei test, meno chilometri per i piloti e soprattutto non riesci a valutare i giovani piloti perché fai pochi chilometri durante i test, non hai test a disposizione e quindi devono fare, chi se lo può permettere con i piloti giovani, lo fanno con le macchine vecchie, fanno tutt'altra roba ma che prima non esisteva, lo facevi direttamente con le macchine nuove. Sviluppo delle macchine, oggi sempre di più la macchina sviluppata CFDE, galleria del vento, significa che sempre di più ha voce in capitolo la bontà dell'ingegnere, la bontà del team, la bontà della macchina, il pilota praticamente gli tocca solo guidare quando si va in pista e gli si presenta la macchina, lo sviluppo del pilota sulla macchina c'è sempre meno e sono tante cose che sono andate da una parte bene e dall'altra peggio, però questa è una nuova generazione, non appartiene a me e quindi non sto qui a dire è meglio e peggio, ci sono sicuramente degli aspetti positivi, tante più gare, magari la gente piace vedere tante più gare in Formula 1, ma di dire aspetti negativi dove non ci sono più test, non c'è la possibilità di fare sviluppo con il pilota, però devo dire che dall'altra parte io credo che i team oggi più o meno stiano più o meno tutti bene a livello economico, ai tempi miei c'era un buon blocco di team ufficiali costruttori e poi c'erano quei due o tre team che lottavano sempre per la sopravvivenza, oggi questo non c'è più perché tra FOM e FIA hanno dato la possibilità a tutti i team di poter affrontare una stagione economicamente senza avere grossi pensieri, questo forse anche grazie al Budget Cup, però Budget Cup è un altro tema perché io non so veramente fin dove si riesca davvero ad arginare e a controllare soprattutto, perché vediamo che i grandi team rimangono sempre grandi e questo secondo me non è solo un aspetto tecnico ma è anche legato molto probabilmente all'aspetto economico. Ecco tornando alla tua carriera tu hai vinto Monaco che dicono sia equivalenza di vincere un mondiale, però ti chiedo avendo corso comunque con team ufficiali della Renault a Toyota c'è qualche rimpianto di non aver magari conseguito qualche risultato in più? Ma purtroppo sì ma nella vita non si può avere tutto e soprattutto quando fai questo mestiere bisogna essere al posto giusto nel momento giusto, cosa che sfortunatamente almeno in Formula 1 non mi è capitato, è già stata una grande cosa per me poter approdare in Formula 1, perché ricordo vengo da una umile famiglia che faceva già fatica a farmi correre in go-kart, figuriamoci poi poter pensare di poter arrivare in Formula 1, è stato un vero e proprio caso, molta fortuna, ce l'ho fatta, però poi una volta lì non sono mai stato al posto giusto nel momento giusto perché se ricordiamo il 2004 me la giocavo con Alonso, ho vinto il Gran Premio a Monte Carlo, poi sono dovuto andare via e dal 2005-2006 la Renault è diventata campione del mondo con una macchina competitiva, io invece ero in Toyota dove abbiamo fatto un ottimo inizio e poi ci siamo un po' persi a livello di gestione del team con una serie di problematiche, siamo ritornati nel 2009 di nuovo competitivi e poi di nuovo la Toyota ha chiuso i battenti, insomma è inutile che sto qui a raccontare, penso di aver fatto del mio meglio, rimpianti solo il fatto di non aver potuto lottare sempre a darmi pari con gli altri, o almeno l'unico con il quale me la potevo giocare a darmi pari è il mio compagno di squadra, quello era il mio unico riferimento. Mai avuto contatti con la Ferrari? No, a dire la verità no, perché io ricordo a tutti che ho vissuto l'epoca di Schumacher, quindi insomma c'era un pilota di riferimento in una scuderia grande che comunque ha fatto la storia e non credo che gli Arnotrulli o che la Ferrari avesse bisogno di Arnotrulli in quel particolare periodo, probabilmente ne avrebbe avuto bisogno subito dopo, ma subito dopo, ahimè, anche io mi sono fermato perché comunque ero andato avanti con l'età. Tu hai vissuto in pieno l'era Schumacher e hai vissuto l'era iniziale di Louis Hamilton, ecco, al di là del paragone che ti posso chiedere, però sono stati i due grandi diciamo della Formula 1 degli ultimi vent'anni ed è stato però mi pare che sia subito lì. Questi tre o magari ci inserisci anche qualche altro? Credetemi, è molto difficile poi dire uno è più bravo dell'altro, molto e sempre dipende dalla macchina e il team in cui ti trovi e in quell'epoca, perché anche lo stesso Akinen ha vinto dei mondiali, ha dominato finché la McLaren ha dominato, e così è stato anche per Schumacher, Schumacher ha vinto dei mondiali quando eri in Benetton, è passato in Ferrari e ci ha messo cinque anni per poter portare una scuderia a poter vincere e poi a dominare per lungo tempo, così è stato per la Red Bull di Vettel ed ora la Red Bull è tornata di nuovo, però ci sono stati degli anni in cui Mercedes ha dominato, specialmente con l'epoca dei motori ibridi, quindi come vedete molto spesso dipende anche dalla macchina che guidi nel team in cui ti trovi e devi essere nel posto giusto e nel momento giusto Verstappen ha dimostrato di essere un grande pilota, su questo non c'è dubbio, i numeri parlano per Hamilton e Schumacher, ma se voi andate ad analizzare ci sono tanti altri piloti che avrebbero potuto fare come Schumacher, come Hamilton, come Vettel, però dipende sempre dove ti trovi un altro per dirne un altro, lo stesso Alonso ha vinto due mondiali, magari avrebbe potuto vincere molto di più che però successivamente non ha avuto la macchina probabilmente per andare a vincere il mondiale magari se l'hai giocato ma non l'ha vinto, è sempre lì, il problema del motosport è che sei sempre legato a quella macchina che guidi e al team in cui ti trovi. Da una parte si può dire che il pilota può costruire un team, sì ma solo in parte, poi serve comunque una gestione e chi è il capo del team che capisca in effetti cosa serve, io l'ho vissuto con la Toyota, insomma non è stato affatto facile Ecco, parliamo adesso di Antonelli, Antonelli viene visto come la speranza italiana, io l'ho paragonato un po', spero che per lui sia così ma all'impatto che ha avuto Sina con il tennis no, Sina l'ha vinto ieri, lo so, percorriamo, quindi ecco tu pensi che lui possa davvero rappresentare questo tipo di fenomeno per noi in Italia che sarebbe anche una cosa totalmente nuova cioè la Ferrari contro un pilota italiano, perché ricordiamo che correrà contro una delle concorrenti principali È proprio lì il discorso, Antonelli che comunque nelle categorie minore ha dimostrato di andare forte entra dalla porta principale, questo significa che per noi italiani abbiamo la possibilità finalmente di avere un pilota che guidi una macchina competitiva poi cosa saprà fare lo vedremo in Formula 1, ora è troppo presto per dirlo però le speranze sono tante, come è stato per Hamilton entrare in McLaren quando fu è entrato dalla porta principale, è vero che è molto giovane però dall'altra parte è anche vero che i ragazzi di oggi se seguiamo la carriera di Kimi fanno tanti chilometri poi lui è stato sempre parte dell'Academy della Mercedes, quindi gli è stata data la possibilità davvero di maturare bene, di fare tanti chilometri e sicuramente lo prepareranno molto bene per il suo debutto in Formula 1 poi staremo a vedere e lo potremo solamente giudicare una volta che sarà lì però io credo che se l'è meritato e credo sinceramente che possa fare un buon lavoro penso che anche da te possa essere questo il consiglio stiamo tranquilli, proteggiamolo, cioè da parte della scuderia Mercedes di proteggere questo talento ma forse anche da parte di noi italiani stessi, della stampa italiana cioè abbiamo un talento, cerchiamo di proteggerlo e non magari sparare come è successo anche sui social qual'è la pena accetta l'errore? allora gli errori fanno parte un po' del gioco, a volte bisogna evitarli nello specifico io credo che Antonelli abbia le spalle coperte perché ha la Mercedes che crede tanto in lui, ha sempre creduto in lui sin dall'inizio quindi diciamo parte avvantaggiato rispetto a tanti altri prima di giudicarlo bisognerà vederlo alla guida quindi io sarei tranquillo al posto suo e attenderei che arrivi il suo momento, il prossimo anno tanto sono sicuro che gli faranno fare tanti chilometri, ne ha già fatti tanti il Formula 1 arrivare fino ad oggi, ne farà ancora tanti per prepararsi per l'inizio stagione e poi staremo a vedere per quanto riguarda la stampa purtroppo questa è la Formula 1 nel senso che io l'ho vissuta e si vive giorno dopo giorno nel senso che ogni giorno, ogni volta che scendi in pista è un esame e se manchi l'esame giustamente qualcuno deve criticarti e tu devi essere il primo che comunque sei cosciente del fatto che se sei lì sei lì perché ti ritengono speciale e se sei speciale devi dimostrare di fare delle cose eccezionali questo non è riferito ad Antonelli ma è riferito in generale a tutti i piloti quindi fare il pilota di Formula 1 è un impegno molto importante che richiede tanta attenzione, ci sarà tanto stress, i media fanno parte di questo mondo e bisognerà adattarsi per quanto riguarda Antonelli è molto giovane quindi sono sicuro che man mano come comincerà a prendere confidenza con la macchina le cose verranno poi da sé perché comunque non gli manca il talento ecco adesso chiudiamo l'intervista andando sul campionato attuale di Formula 1 che sta per partito a razzo sembrava il solito dominio poi non è più così da Miami poi è salita alla grande la McLaren che forse non ha concretizzato per quello che è il valore della macchina come vedi queste ultime gare che ci porteranno alla conclusione del mondiale? beh un mondiale devo dire abbastanza strano perché a mio avviso era praticamente chiuso dopo le prime battute perché vedere una Red Bull così forte e competitiva sai si fa fatica a recuperare quel divario che c'era in questa stagione sono successe tante cose all'interno della Red Bull che io poi non conosco ma comunque mi sembra che qualcosa deve essere successo perché la macchina oggi non è più così competitiva soprattutto non è più così dominante come lo era a inizio stagione dall'altra parte giustamente altri team in primis la McLaren hanno recuperato tantissimo e oggi probabilmente sono quelli che hanno la macchina più competitiva nel frattempo c'è stata la Mercedes che anche lei ha fatto grandi passi in avanti la Ferrari si è mostrata competitiva in alcune occasioni meno in altre ed è quella che forse sulla quale ho più un punto interrogativo perché non riesco davvero a capire cosa hanno sbagliato se hanno sbagliato, se sono tornati indietro perché ripeto oggigiorno i team fanno fatica a capire se sono andati nel verso giusto oppure no perché l'unico modo per provarlo è durante le gare quando portano gli aggiornamenti capiscono se hanno fatto un passo in avanti o meno la Ferrari dopo Monaco, dopo Monte Carlo si è persa un attimino e questa è una domanda che dovremmo fare forse a passare ai ragazzi della Ferrari cosa è successo veramente? e gli altri invece hanno fatto un passo avanti la Red Bull probabilmente è rimasta o lì o forse tornata indietro oggi ci ritroviamo con quattro team che davvero possono lottare per la vittoria gara dopo gara a seconda poi delle caratteristiche del circuito cosa aspettarsi per la fine del campionato? bisognerà seguirlo perché a mio avviso è tutto ancora da scrivere è tutto ancora da correre e secondo me la McLaren davvero ha imbroccato una buona strada se la Red Bull non torna sui suoi passi o comunque non torna ad essere la Red Bull di una volta Verstappen farà fatica a difendere il campionato quando inizialmente mi sembrava praticamente quasi chiuso dopo quattro gare però staremo a vedere ecco, se tu fossi Andrea Stella tanti discutono questo dualismo Norris Piastri, anche l'ultima gara di Monza vuole puntare al Mondiale Costruttori e praticamente sta in nota il Mondiale Piloti ci credo un po' meno ecco, quindi fanno delle scelte come quella, ripeto, di Monza contro magari un po' l'interesse di Norris tu pensi che possa essere una cosa corretta oppure abbiamo stabilito l'obiettivo ai costruttori andiamo fino in fondo con i costruttori e fa niente il piloti cioè fa niente nel senso se poi non arriva il piloti fa niente allora, è difficile fare dei commenti o giudicare quando si è seduti qui e non si è team principal e non si è team manager perché non sa esattamente quali sono i loro obiettivi e cosa stanno facendo e cosa è successo a Monza perché a Monza, secondo me, non è che hanno proprio sbagliato tutto perché sono stati presi in contropiede era una Ferrari molto sveglia in quel caso e hanno subito un K.O. che non si aspettavano che a mio avviso devono finire le prime e secondi ma la Ferrari sono stati in quel caso più svegli più bravi a interpretare e a leggere la gara nelle strategie a parte quello per quanto riguarda gestione dei piloti non è facile e il team che decide il team che comanda lo è stato sempre di più negli anni a venire perché alla fine sono dei piloti professionisti sono come dei dipendenti quindi devono un po' seguire quelle che sono le direttive di un team, di un brand come in questo caso possa essere la McLaren o possa essere la Ferrari o la Mercedes ora che stiano facendo bene o no io credo che alla fine fin quando i due piloti non si prendono dentro va bene che vinca uno, vinca l'altro ma che arrivano entrambi in fondo e là davanti fa bene al team per il titolo piloti probabilmente o non ci credono oppure decideranno negli ultimi 4 gran premi 5 gran premi non lo so ora è difficile da dire perché ripeto non sappiamo quali sono le strategie interne da parte del team come vedono loro la fine della stagione di certo è che però oggi la McLaren è riconosciuta come probabilmente la macchina più veloce quindi al momento sono contenti dei risultati che stanno arrivando sì avrebbero potuto vincere una gara in più sì ma magari avrebbero potuto vincere anche qualcuno in meno dipende da come vediamo le cose quindi staremo a vedere grazie mille Jarno l'appuntamento è in pista con te giusto? assolutamente tra la prima data tra poco arriviamo ad ottobre siamo tutti in pista e iniziamo questo nuovo progetto questa nuova avventura il sito internet di riferimento è Road to Race quindi andate lì potete scegliere cosa cioè scegliere potete iscrivervi e partecipare a questa straordinaria avventura e chi lo sa magari diventare veramente piloti per un giorno grazie mille grazie mille grazie mille